Allora, ora siamo in strada palazzo di città, quindi questa strada collega idealmente piazza mercantile con la basilica ed è stata sempre una strada importante della nobiltà milanese. Ora cosa c'entrano i milanesi a Bari? C'entrano tanto perché Bari diventa proprietà degli Sforza e quindi qui si stabilisce Isabella d'Aragona, la moglie di Giangaleazzo Sforza, purtroppo morto precocemente, con sua figlia Buona Sforza e l'altra sorella che deve essere sempre un ruolo importantissimo per la storia della città.